benvenuti a chiedi a barbie dove voi chiedete e io rispondo oggi parleremo della mia fantastica avventura piena di musica a floravia sono appena tornata a malibu e non vedo l'ora di raccontarvi tutto i miei amici e io abbiamo fatto una meravigliosa gita scolastica nel regno di floravia dove ho conosciuto la principessa melia ci siamo scambiati di identità e abbiamo vissuto un mucchio di avventure incredibili tanta musica balli panorami stupendi è stato davvero fantastico non vedo l'ora di ascoltare le tue avventure barbie ok veniamo alle domande di oggi hazy crazy chiede non so bene chi voglio diventare puoi aiutarmi barbie ma certo puoi provare un mucchio di cose che ti interessano e vedere cosa ti piace il che mi ricorda una canzone che desi e io abbiamo scritto ed eseguito poco prima del nostro viaggio a floravia si intitola provaci sentite dimmi chi vuoi vedere riflessa nello specchio toccati realizzare il sogno che tu hai vivi un'avventura nuova mettiti nei panni di qualcun altro vestiti e trasformati si è un mucchio c'ha un tipo ai lati non sai mai cosa scoprirai provaci provaci e sarei tutto ciò che vuoi con le tue capacità dai forza provaci e si si che ce la farai e in gabbia non ti chiuderanno mai su provaci su provaci su provaci su provaci su provaci che importa chi vogliono vedere in te dentro noi c'è quel qualcosa in più che importa chi vogliono vedere in te fin nel cielo potrai arrivare fin nel cielo potrai arrivare dai se provaci e sarei tutto ciò che vuoi con le tue capacità dai forza provaci se tu rieschi ce la farai e in gabbia non ti chiuderanno mai su provaci se tu rieschi ce la farai noi provaci in gabbia non ti chiuderanno mai provaci sto uscendo dalla mia zona di comfort sarò mai la mia vita ingrato di reinventar cosa mi aspetterà non so cosa verrà dentro cosa io finirò troverò un'altra me in un posto nuovo mille cose sento che vedrò nella storia antica io mi immergerò tendenza e fashion di ogni sorta nuove idee vedrò dietro qualunque porta vivere per strabiliare entusiasta di stare in un posto nuovo in un posto nuovo in un posto nuovo cosa mi aspetterà non so cosa verrà dentro cosa io finirò troverò un'altra me in un posto nuovo remixerò di floravia la musica e con un nuovo group tutti quanti farò ballare sentieri segreti mai fatti prima d'ora ti voglio esplorare una nuova avventura con la mia amica un po' particolare tanto tempo voglio passare in un posto nuovo via dalla tranquillità un posto nuovo la mia vita saprò reinventare in un posto nuovo forse è proprio ciò di cui ho bisogno un posto nuovo per poter dare forma al sogno questo passo farò tutto io affronterò sono pronta e ce la farò troverò un'altra me siamo arrivati? in un posto nuovo e io sono stata l'ultima studentessa scelta per partecipare al viaggio a Floravia aspetta hanno scelto a caso quali ragazzi della tua scuola dovessero partecipare al viaggio? è quello che ho pensato anch'io Tessa e Tom chiedono sei mai stata in un vero castello? ci sono stata? abbiamo assistito all'incoronazione della principessa Amelia ve ne faccio vedere un'anteprima guardate io mi sentivo invisibile la mia immagine confusa la vita era impalpabile e sognavo ad occhi chiusi ma... ora c'è il sole il cielo brilla la fine vedo di questa strada la via è chiara sono vicina e penso proprio di aver capito che... ora ora ho una cosa nella mente ed è ciò che ho davanti a me io ora ora posso le mie braccia aprire e penso di aver capito che... è il mio momento io canto sopra il rumore è il mio momento la voce ha il suo colore ho i piedi per terra non torno più indietro la luce mi nominarà è il mio momento ed è tutto mio è il mio momento lui è qua dimmi chi vuoi vedere riflesso nello specchio tocca a te realizzare il sogno che tu hai vivi un'avventura nuova mettiti nei panni di qualcun altro vestiti e trasformati, sì abbraccia tutti i tuoi lati e non sai cosa scoprirai la via è chiara sempre più larga penso di aver capito che... ora ora ho una cosa nella mente ed è ciò che ho davanti a me provaci io ora ora posso le mie braccia aprire e penso di aver capito che... provaci è il mio momento io canto sopra il rumore è il mio momento la voce ha il suo colore ho i piedi per terra non torno più indietro la luce mi nominarà è il mio momento ed è tutto mio è il mio momento lui è qua wow, somigli alla principessa Amelia in modo sorprendente lo so, è vero la settimana prossima realizzerò un nuovo video nel quale risponderò ad altre domande sulle mie avventure a Floravia io ne ho un sacco da farti grazie per aver guardato Chiedi a Barbie non vedo l'ora di condividere con voi tutte le mie avventure da principessa non dimenticatevi di seguire il mio vlog e le mie avventure nel mio nuovo magico camper dei sogni con un sacco di altre sorprese che non vi aspettate alla prossima settimana pace